Per me la statistica è la raccolta dei dati per conoscere la realtà. Sono Simone Toffoli e sono della scuola Crispi di Vittorio Veneto e secondo me la statistica è una scienza che ti fa calcolare e ci aiuta a raggruppare qualche cosa o a capire qualche cosa del nostro mondo. Secondo me la statistica sono dei grafici per conoscere delle cose che sono più approfondite e noi con questo progetto siamo molto divertiti e spero che rimarrà sempre bello. Sono Bonfanti Giovanni e sono della scuola Francesco Crispi di Vittorio Veneto. Per me la statistica è una parte della matematica che aiuta in molti ambiti di tutti i giorni. Per me la statistica non è solo un fatto numerico ma si fa parlare i numeri però in maniera diversa perché racchiude in questi numeri i popoli. Mi chiamo Gianmigale Perrella, vengo da Campo di Pietra in provincia di Campobasso nel Molise. Mi piace perché è una specie di scienza. Per me la statistica è una scienza che elabora i dati di varie cose. La statistica per me è la più importante forma di comunicazione sullo sviluppo di una popolazione. Una popolazione di ogni paese del mondo, anche dell'Europa, che comunque ogni statistica viene effettuata soprattutto dagli Istat e dall'Eurostat. L'Eurostat a livello europeo e gli Istat a livello della nostra nazione, a livello italiano. La statistica serve quindi per informare le diverse popolazioni del mondo sullo sviluppo di un popolo e su ciò che comunque accade nel sviluppo che ci sono nei diversi popoli.